Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo breve gameplay voglio analizzare assieme a voi il sistema di combattimento utilizzato nel nuovo Paper Mario Origami King. Come sapete, se seguite la serie Paper Mario da tempo, ogni gioco propone sempre un sistema di combattimento diverso, per lo più a turni. In questo Paper Mario disponibile in esclusiva Nintendo Switch c'è questo sistema, quindi voi appena incontrate un nemico date il via al combattimento a ondate. Ci sono diverse ondate di nemici da sconfiggere. Come vedete vi trovate all'interno di una circonferenza e dovete praticamente selezionare i vari cerchi di questa circonferenza per allineare i nemici in modo da colpirli. Come potete vedere, selezionando un cerchio e spostando il cerchio, ossia il nemico, lo allineate e allineandolo in questo modo potete decidere se colpirli con le scarpe o il martello. Il martello, diciamo, è utilizzabile solo per colpire una certa porzione di terreno, mentre le scarpe possono essere utilizzate per colpire tutti i nemici in fila. Quindi è sempre un sistema a turni, quindi nel vostro turno dovete prima di tutto spostare i vari cerchi, diciamo, per poi decidere con cosa e chi attaccare. In alcune fasi, invece, dovrete praticamente, adesso ve lo mostro, gestire il cerchio in modo diverso. Cioè, tipo in questa fase, sono molteplici nemici e sono mischiati, quindi potete sia spostare il cerchio in questo modo, che selezionarlo in quest'altro. Diciamo, con questo metodo, come vedete, potete scalare i nemici per poterli allineare meglio. Naturalmente avrete a disposizione un certo numero di mosse da fare e di attacchi. In questo caso avete due, diciamo, movimenti che potete fare entro il tempo stabilito, dopodiché dovrete attaccare. A volte potete attaccare una sola volta, altre volte più volte. Ecco, in questo caso, ad esempio, usando il martello, io posso colpire i nemici, i quattro nemici che si trovano davanti. Mentre quelli restanti, no. In questo caso, ovviamente posso usare anche oggetti tipo fungo, fiore, stelle e quant'altro. Se colpisco i nemici e esaurisco i miei turni e non li ho uccisi tutti, naturalmente poi entreranno in azione i nemici che potranno colpirmi. Quindi io poi dovrò cercare di limitare al massimo i danni. È un sistema di combattimento molto particolare, lo riconosco. Potrebbe non piacere a tutti, ma è solo una questione di abitudine, vedete? Non è molto ostico, cioè è abbastanza semplice alla fine. Quindi, diciamo, è solo una questione di abitudine. Poi c'è da dire un'ultima cosa, il fatto dei Toad. Nel corso dell'avventura salverete, troverete dei Toad che una volta appunto salvati, potranno essere aggiunti all'arena come spettatori e questi faranno da pubblico favorendovi in alcune movenze. Quindi avrete, diciamo, delle abilità, dei bonus temporani particolari. Quindi più ne salvate e più naturalmente l'incontro poi va a vostro vantaggio. Questo è per quanto riguarda il sistema di combattimento. Quindi se acquistate il nuovo Paper Mario sapete che andate incontro a questo sistema di combattimento.